Ciao a tutti, questo video non era previsto, è totalmente improvvisato, però dovevo assolutamente registrarlo perché sui mercati sta succedendo una cosa senza precedenti, una cosa mai successa prima nella storia. I futures del petrolio americano sono andati sotto zero, i prezzi del petrolio americano hanno perso oltre il 100% e sono andati in negativo. Per la prima volta nella storia non era mai successo. I prezzi del petrolio West Texas sono crollati di oltre il 130%, il Brent invece, il benchmark internazionale per il petrolio, sta perdendo solo l'8%. Questa è una cosa assolutamente sconvolgente e può avere delle ripercussioni sull'economia americana pazzesche perché le aziende americane produttrici di petrolio sono già straindebitate, già in difficoltà e con il petrolio a questi prezzi ridicoli, ormai non vale più niente, rischiano davvero di fallire. E se queste aziende, tra cui ci sono anche aziende enormi, fallissero sarebbe veramente una catastrofe, provocherebbe una reazione a catena che farebbe fallire tante altre aziende. Pensate a tutte le banche che hanno prestato soldi a queste aziende di petrolio, che non saranno in grado di ripagare i loro debiti. C'è il rischio veramente che si inneschi una furiosa reazione a catena che porti tutti i mercati mondiali a crollare e che abbia delle pesantissime ripercussioni sugli economie mondiali. Perciò adesso fate moltissima attenzione a giocare con azioni legate al petrolio e con il petrolio stesso, perché veramente questa azienda adesso se la vedranno molto, ma molto, molto brutta. Bene, volevo semplicemente aggiornarvi sulla situazione e farvi sapere quello che sta succedendo sui mercati. Perciò per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, mettete like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa crisi. Ciao a tutti e buoni investimenti!